Il coach è una scuola sempre medessa. Posso andare? Tanti complimenti alla mensana, ho giocato una partita estremamente brillante. Ha saputo punirci su ogni volta che non siamo stati abbastanza consistenti difensivamente e purtroppo questa sera lo siamo stati troppo spesso. Non abbiamo mai preso l'iniziativa difensiva, o meglio l'abbiamo sempre presa a sprazzi e prendendola a sprazzi giocando in trasferta non basta. Purtroppo è la seconda volta che in trasferta ci succede e non possiamo pensare di vincere in trasferta segnando 100 punti. Dispiace perché per diversi momenti della partita avevamo dato l'impressione di poter davvero accelerare e invece ogni qualvolta siamo rientrati in partita e per in partita intendo anche punto pari abbiamo di nuovo subito un controbreak. Quindi grandi meriti alla mensana per tutto questo però quello che abbiamo fatto noi questa sera e quello che abbiamo fatto noi a Scaffati non è minimamente sufficiente per vincere le partite in trasferta. La nostra squadra gioca a Pallacanesto, in trasferta continua a segnare 87 punti, 90 punti, 92 punti ma purtroppo in trasferta le partite si vincono dietro e noi questa sera da questo punto di vista siamo stati totalmente inconsistenti ed è l'unica cosa mi sento di dire su cui dobbiamo lavorare in ottica dei play-off. Se avete domande A posto, grazie Le condizioni di Stefanelli sono da valutare ha avuto una distorsione, una probabile distorsione al ginocchio la sensazione parlano di collaterale ma l'entità non possiamo sapere Grazie Grazie Grazie